L'Ok ha già fatto prendere grandi cose Qua è attenzione arriva il rigore in favore del Monza Contatto in area di rigore tra Borregan e Arnit Contro Leo Paes Vediamo chi riuscirà ad avere meglio Torne, torne, Paes La prima di rimane lì ancora Torne, torne, torne Le difensive del Montebello riesce a superare Leo Paes Ma attenzione dall'altra parte Borregan Difensivi di Ghirardello praticamente perfetti Attenzione Bernardo Marquez che è rientrato in pista al posto di Zordane Parte Borregan Borregan, Borregan, Borregan Grande riconferma dopo L'abbiamo già scoperto la passata stagione appunto Attenzione Siambella, Siambella da fuori Trova In area di rigore continua a muoversi E un giocatore verrà Attenzione Ancora Ancora lui Siambella Fatta Parte Tamborin de Gui Ferma tutto Ancora Borregan Riparte Bernardo Marquez Casparcio Attenzione Gliardello in mezzo Borregan Che gol Attenzione Pierluigi a Mendolagine Che per il momento Non è ancora entrato Attenzione Ardit Marco Ardit Ritrova lui Inticato dalla difesa bianco-rossa Per fortuna del Montebello Attenzione Dall'altra parte Crudelli Giovanni Crudelli Gabioli Gabioli E dunque E finisce qui Finisce qui Montebello Ritrova i tre punti Lo fa Alla partita di Sordio Di Morozini